Il Catania non riesce a dare continuità al successo rimediato al Massimino contro la Virtus Francavilla e contro la Vibonese a Vibo Valencia fa 1-1. Il pareggio rosso-azzurro porta la firma di Max Barisic, primo nostro segno più di giornata. Lo sloveno ancora una volta entra dalla panchina e regala punti importanti ai suoi. I sono bastati pochi minuti contro i calabresi per trovare la rete del pareggio, finalizzando al meglio l'assist di Russotto. E proprio quest'ultimo entra di diritto nella nostra rubrica tra i segni più. Parte dalla panchina, ma quando è chiamato in causa da Pulvirenti, lui risponde presente e si prende sul groppone l'intera squadra. L'azione confezionata sul gol mostra tutte le qualità del 10 etneo, corse tecnica che hanno mandato in bambola la retroguardia calabrese. Tra i segni più vi rientra anche Giovanni Marchese, torna in campo dopo l'infortunio e guida come meglio può l'intero reparto difensivo, dandogli anche sicurezza. Forse la sua migliore gara da quando riveste i colori rossazzurri. Cambia l'interprete, non cambia il film. Non c'è Pozzebon al centro dell'attacco, Modioko Tavares, ma anche lui delude ed è il primo nostro segno meno. Ha avuto almeno tre occasioni per far male e non ne sfrutta nemmeno una. Giornata da dimenticare, infine anche per Gildrausio. Segno meno anche per lui. Sowey gli passa al lato come vuole. I suoi errori non portano al gol, ma in questa fase della stagione sembra tutt'altro che un muro insuperabile.